Parola del giorno, venerdì 24 maggio 2024. Oggi si venera, Santa Maria Ausiliatrice, l'aiuto dei cristiani. Non lamentatevi, fratelli, gli uni degli altri, per non essere giudicati, ecco il giudice è alle porte. Fratelli, prendete a modello di sopportazione e di costanza i profeti che hanno parlato nel nome del Signore. Ecco, noi chiamiamo beati quelli che sono stati pazienti. Avete udito parlare della pazienza di Giobbe e conoscete la sorte finale che gli riservò il Signore, perché il Signore è ricco di misericordia e di compassione. Soprattutto, fratelli miei, non giurate né per il cielo, né per la terra e non fate alcun altro giuramento. Ma il vostro sì, sia sì, e il vostro no, no, per non incorrere nella condanna. In quel tempo, Gesù, partito da Cafarnao, venne nella regione della Giudea e al di là del fiume Giordano. La folla accorse di nuovo a lui e di nuovo e gli insegnava loro, come era solito fare. Alcuni farisei si avvicinarono e, per metterlo alla prova, gli domandavano se è lecito a un marito ripudiare la propria moglie. Ma egli rispose loro, che cosa vi ha ordinato Mosè? Dissero, Mosè ha permesso di scrivere un atto di ripudio e di ripudiarla. A casa, i discepoli lo interrogavano di nuovo su questo argomento. E disse loro, chi ripudia la propria moglie e ne sposa un'altra, commette adulterio verso di lei. E se lei, ripudiato il marito, ne sposa un altro, commette adulterio. Oggi, 24 maggio, si venera, Santa Maria Ausiliatrice, l'aiuto dei cristiani. Preghiera a Santa Maria Ausiliatrice, o Maria, Vergine potente, tu grande illustre presidio della Chiesa, tu aiuto meraviglioso dei cristiani, tu terribile come esercito schierato a battaglia, tu sola hai distrutto ogni eresia in tutto il mondo, tu nelle angustie, nelle lotte, nelle strettezze difendici dal nemico e nell'ora della morte accogli l'anima nostra in paradiso. Amén.